bene un salutino da casa per riportare questo che uno degli aspetti che in questo momento stanno sfuggendo forse dall'attenzione ma io non penso affatto che sia insostanziale è uno degli elementi che in un modo o nell'altro motivano la voglia di affrontare la vita per cui quando si parla di anticorpi in realtà si parla di voglia di viverla questa vita di viverla, di vedere cosa ci porta, di vedere cosa c'è di nuovo, di affrontare le sfide di vivere, di stupirsi ecco in questa cosa direi che uno degli elementi che la persona incontra che penso che destino più stupore, sorpresa, intensità, cimentarsi anche è uno degli elementi che è molto presente nell'amore, nell'amore c'è sicuramente questo evento, questa sorpresa e riflettevo, qualche giorno fa mi è stato dato di parlare con dei ragazzi che è facile che poi si aprano magari quando io parlo nel mio modo cazzaro, in questo modo così e quindi abbiamo parlato, a me fa molto piacere peraltro quando riesco a confrontarmi perché alcune cose le abbiamo vissute anche noi della generazione prima e non erano dissimili e che anche loro poi saranno in avanti, saranno anche loro delle persone di mezza età e quindi in questo c'è molta umanità, in questo riconoscersi nel tempo penso che sia una delle cose che in questa vita moderna, molto informatica, si stiamo un po' perdendo e penso che non sia poco importante, molto importante ai fini della trasmissione, del lignaggio umano anche e in questo caso questi ragazzi mi raccontavano dell'amore mi raccontavano di clandestinità in questo tempo di coronavirus e non solo la loro sia da un lato che dall'altro ma anche quella di altri amici e anche di fidanzati non diciamo ai primi giorni ma fidanzati che sono due aspetti differenti, potete immaginare due ragazzi oggi con il casino che c'è che in tutto il pasticcio che vivono, perché vivono in un pasticcio abbastanza incredibile, comunque ogni pasticcio è incredibile, ma quello incredibile è il pasticcio che vivono i ragazzi adesso almeno da me che ho visto altri pasticci, dico caspita anche questo, wow, mica male che si innamorano, ma direi Dio santo fermi tutti ragazzi, è come un elemento da proteggere, come se ci fosse una specie protetta e abbiamo visto il pinguino viola della Namibia che non esiste e allora vedi i ragazzi che si innamorano e gli dici va bene, è chiaro, succede, poi anche quegli altri si sono innamorati ma cioè quegli altri sono insieme magari da qualche mese, si sono visti qualche volta, vorrebbero vedersi ma invece no, sono chiusi in casa, sono chiusi in casa in una condizione sociale dove di fatto i genitori sono a loro volta stranieri in casa in questa situazione nuova e quindi c'è una situazione abbastanza complessa che ha un suo lato positivo a me l'obbliga a stare assieme, però non dovrebbe andarne di mezzo qualcos'altro che ha a che fare molto con l'entusiasmo, ha a che fare con l'entusiasmo di persone che sono come noi e che sono anche quelle che daranno un pochino la spinta nei prossimi anni è indispensabile, se no la specie si ferma cioè è ovvio che questi ragazzi hanno addosso sia le caratteristiche sia la natura che servirà per quello che devono fare e bene, a me piace l'essere umano in generale quindi in questo caso quando vedo due ragazzi che temono di essere fermati perché si vogliono incontrare e poi non sanno dove incontrarsi perché nei posti dove ci si imbosca ormai non si può più andare perché è proprio lì che gira la pattuglia per evitare che ti imboschi e allora non sanno dove andare, vogliono nascondersi a casa di qualcuno allora chiedono asilo, chiedono asilo a casa di qualcuno e stanno lì, però i genitori di quelli, i genitori di quell'altro qualcuno è consensiente, qualcuno di meno, qualcuno è complice tutto questo pasticcio di fatto nella maggioranza dei casi come in questi casi voleva dire non vedersi non vedersi, scriversi, l'amore ai tempi del coronavirus ecco, e questa è una delle facce, no? poi c'è l'altra faccia la faccia di quegli amori combinati a patchwork dove va bene per una cosa ma non per un'altra però il compromesso esistenziale ti porta a certi modi di vivere oggi quei modi di vivere sono spezzati e molte coppie a casa loro sono un po' estranei in casa ed è molto brutto cioè è come una situazione che sta acutizzando un fenomeno che volendo vedere era latente magari ma tranquillamente avrebbe potuto estinguersi in molto tempo anche in molte maniere celato, no? in altri modi chissà come di solito poi succede quasi tutti i giorni però questa situazione tutto assieme sta generando anche notizie anche dalla Cina che ci anticipa un pochino i tempi bisogna vedere quanto sia vero però sembra che appunto ci sia un escalation di divorzi in Cina dopo la quarantena quindi persone che stanno a casa assieme ma c'è un picco di richieste agli psicologi i psicologi stanno guadagnando un botto di soldi perché fanno consulenze al telefono su Skype, in Zoom fanno webinar, seminari e quant'altro, no? e perché molto spesso poi le persone magari chiamano ma chiamano dalla cucina a bassa voce perché sono momenti che di solito magari la persona si viveva da solo in qualche posto e adesso sono chiusi in quattro mura quattro, magari otto, sedici, ventiquattro mura non lo so però di fatto vi sbigliando anche da un'altra stanza dal bagno, no? succede questa cosa e io mi chiedo se cioè se dopo, se questa ondata in questo modo aiuterà insomma se è il caso di impedire proprio l'avvicinarsi di persone che magari poi peraltro fino a come di solito succede fino a due giorni prima condividevano i loro fluidi condividevano l'acqua e piace pensare anche le emozioni e poi ad un tratto si trovano a essere separati ma per un motivo ovviamente fittizio perché se sono già contagiato non ci sarebbe il motivo che non si vedessero, no? però pare che a nessuno ne freghi niente dell'amore, no? è molto fredda la gestione di questa situazione penso che proprio sia l'elemento che più la rende qualcosa di sapete le cose per quando non sappiamo se sono giuste se vanno bene a vostro sentire dovete chiedervi se sono giuste, vere, belle e buone è facile, no? giuste, vere, belle e buone capire il giusto, il vero, il bello e il buono è una facoltà che l'essere umano ce l'ha o non ce l'ha ok quindi in ogni caso non c'è colpa è un po' come sentire se un accordo se un suono è cacofonico è scordato, stonato, disarmonico oppure invece è armonico, accordato quindi di solito è una facoltà intuitiva non deve essere insegnato non è come imparare a leggere cioè chiunque si rende conto se un suono suona male o suona bello poi diventare dei musicisti è un altro discorso però questa è una facoltà che abbiamo innata è nello stesso modo come possiamo tutti capire cos'è il giusto ad un livello intuitivo, innato cos'è il vero che è un'altra cosa dal giusto possiamo capire cos'è il vero intuitivamente possiamo intuitivamente accertare che cos'è buono possiamo accorgerci che quando una cosa è buona in maniera intuitiva il buono e possiamo riconoscere il bello il bello può essere il bello anche in un'azione il bello nella scelta di una parola piuttosto che un'altra quindi noi siamo, nelle nostre azioni, nei nostri comportamenti rispetto alla nostra vita, rispetto ai nostri simili, alle persone con cui ci relazioniamo siamo veri belli buoni e giusti no belli belli nel modo di essere questa cosa che facciamo è vera bella, buona e giusta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti